chi ti faccio? ma chi ti faccio? ma chi ti faccio? ma chi ti faccio? ma è possibile? che sei così dolce? ma è possibile che sei così dolce? questo è un spettacolo un spettacolo questo sei un spettacolo te sei un spettacolo te stu-pen-di-mi-si-mo vieni amore è un bel fischio amore mio ecco è arrivato si è messo seduto oh sto facendo una bella ripresa che fai te? io sto facendo una bella ripresa e te che fai? amore 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 tesoro mio tesoro sei tesoro eh? sei teodoro tesoro ah e ti do un bacio così eh 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 è ua